Posso farmi fare un grande caffè con i miei follower, ma con una tazzina un po' particolare? Scopriamolo, via! Buongiorno, come ti chiami? Attilio Vorrei due caffè Però, no, no, Attilio, aspetto un attimo Li vorrei in collaborazione Questo qui è il mio profilo Sì, tuo Instagram Che dici? No, no, il mio profilo è reale, eh Due caffè normali, Attilio Vabbè Unica cosa Il mio caffè lo vorrei qui dentro Tu sei abituato, vai al bar, chiedi un caffè E se lo fai fare, no, dentro Fammi capire Come se fosse un caffè lungo qui dentro, cioè non tutto pieno Aspetta che Ci entra? Ci entra, ci entra Ehm, chiedi se va bene la, 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 la quantità Va bene L'ultima Pure per me Certo, abbiamo fatto il primo, facciamo anche il secondo Ottimo Grazie Perfetto Siccome noi dobbiamo lavorare, almeno le tazzine porta le intere perché guarda perde Ah, c'è un Ehm, bene il caffè, io spero che sia un buco No, scusami C'è un buco, ci avevo messo un po' di scotch per Certo, è un buco, ci avevo messo un po' di scعل